Lorella Cuccarini giudice in un talent show. Di certo lei sceglierebbe Amici di Maria De Filippi, preferendo il programma di Canale 5 al rivale Rai, ballando con le stelle di Millie Carlucci. Lo ha rivelato in un'intervista rilasciata sul nuovo numero del settimanale Chi, in cui regala l'odia la trasmissione Mediaset definendola uno dei pochi varietari musti. Se dovessi scegliere tra fare il giudice ad Amici o a Ballando con le stelle, sceglierei Amici per il tipo di spettacolo. Ballando è divertente, ma i giudici hanno un ruolo marginale, sta diventando sempre più uno spettacolo con altre componenti, mentre Amici è molto ben fatto, i ragazzi sono bravissimi ed è più vicino a varietà, anzi, è uno dei pochi varietà rimasti. Maria raccoglierà l'invito e la chiamerà nell'edizione 2017-18. Nell'intervista non sono mancati riferimenti a polemiche passate con altri personaggi del mondo dello spettacolo. La Cuccarini ha rievocato lo scontro con Raffaella Carrà, che nel 2014 la scelse inizialmente come giurata forte, forte, forte salvo poi il fare marcia indietro. Nel frattempo, la showgirl aveva rinunciato ad altri impegni a teatro proprio per tenersi libera per lo show, e se la prese molto per il rifiuto. La stima per la signora della TV, comunque, è rimasta immutata. In quel caso ho avuto una reazione umana di grande dolore. Essendo una che non parla alle spalle mi sembra giusto segnalare quell'atteggiamento scrivendo una lettera aperta. Ma per me non è cambiato l'amore che provo per lei, perché nella mia vita ha rappresentato moltissimo. Infine, non poteva mancare un cenno a Eder Parisi, la cui riunione con Neme Camatissima ha portato strascichi molto negativi, con le accuse dell'americana contro il programma e una sua successiva azione legale contro Lucio Presta. Lorella chiude la questione in modo secco. Dopo aver fatto insieme Neme Camatissima si può proprio dire che non tutte le ciambelle riescono con il buco anche se quella era riuscita, almeno visti gli ascolti. L'epilogo non è stato bello, ma non cavalco le polemiche, quella le lascio a chi non vuole parlare d'altro. Chi se ne frega.